Oggi Slow Food e l'Università di Scienze Gastronomiche, con questo appello in cui si richiama la centralità dell'educazione alimentare, vogliono fare un pochino il percorso contrario, cioè dopo 40 anni di attivismo si cerca di entrare nel tessuto del mondo accademico con l'introduzione dell'educazione alimentare nelle scuole dell'obbligo. Ci sono dei consigli che può dare per fare arrivare ai ragazzi, anche allacciandoci al discorso che faceva prima Sveva, dei consigli che possiamo attuare per arrivare a questi giovani anche con tematiche così importanti? Temo che anche qui se rispondessi no, non ho consigli da dare, che sarebbe la verità, però sarebbe un po' deludente. Però qualche consiglio alla fine verrà fuori, vedrete, almeno spero. Devo dire che quando, beh dal 98, io sono professore, già molto prima da giovanissimo ero ricercatore di storia medievale e quando tanti anni fa ho capito che io volevo dedicare la mia vita a studiare la storia medievale, ecco non avrei mai creduto che mi avrebbe portato poi qui su questo palco a parlare di cibo, di scienze gastronomiche e di educazione alimentare. Anche se in realtà poi già in quegli anni lontanissimi in cui io ero studente, si cominciava già a parlare in Italia di un professore, di un giovane professore, di storia medievale che aveva scoperto che l'alimentazione, la storia dell'alimentazione, poteva essere un grande tema e che si stava facendo un nome, era Massimo Montanari che è qui oggi con noi. E io però non ci sono, non ci sarei arrivato subito e anche se poi adesso ripensandoci mi rendo conto che man mano, man mano che mi innamoravo sempre di più di quel medioevo che avevo deciso di studiare e com'è che me ne innamoravo? A tanti potrà sembrare una cosa strana, ma me ne innamoravo perché leggevo degli autori, leggevo degli uomini e qualche volta anche delle donne, viva Dio, di quell'epoca che scrivevano, che ci hanno lasciato la testimonianza di come vedevano il mondo, di come sapevano raccontare la loro vita. E gli autori di cui mi innamoravo, se ci ripenso adesso, poi questo tema del cibo, ce n'era uno in particolare, io ne ho parlato spesso nei podcast appunto, di cui si diceva, un frate francescano che si chiamava Fra Salimbene, sarà un caso ma era di Parma e quindi di cibo e di vino si interessava moltissimo Fra Salimbene, era un francescano del 200, era uno che per descrivere ai suoi lettori italiani la Francia, diceva la Francia è divisa in otto province di cui quattro bevono vino e quattro bevono birra. E che la prima volta che va in Francia, in Borgogna, dice poi, lui scrive questa lunga cronaca in latino in cui racconta tutte le cose che ha fatto, che ha visto, che ha conosciuto, dice io ci sono andato, mi avevano detto che lì in Borgogna si fa più vino che a Cremona, a Parma e Reggio Emilia messo insieme, io non ci volevo credere, ma quando sono stato lì ho dovuto rendermi conto che invece è davvero così. E Salimbene è anche uno che ragiona su come il cibo, su come il cibo è importante nella sua società, naturalmente ci ragiona dal punto di vista di qualcuno che dice, noi siamo, è ovvio che lo pensi, un uomo del Medioevo, è della fine del Medioevo, siamo una società talmente evoluta, talmente ricca, talmente sofisticata, talmente civile, sempre di più, anche troppo, a tavola, a tavola scopri continuamente raffinatezze nuove. Poi faceva un esempio che io fino a pochissimo tempo fa, e quindi per 40 anni non ho capito. Diceva quest'anno per la prima volta alla festa di Santa Chiara ho mangiato i ravioli senza crosta di pasta, e lo dico, dice il frate, per mostrare a che livelli di finezza arriva ormai la golosità umana. Per decenni io mi sono chiesto chissà cosa vuol dire. Di recente mi ha scritto un signore che si occupa di industria alimentare in Corea, un italiano però, e credo di Parma, e mi ha scritto, dice, ma lei non lo sa, ma in alcune zone di Parma è tradizione che la ciotola degli anolini in brodo si copre con una crosta di pane, si spolvera di parmigiano e poi si passa in forno. E questa che è rimasta a Parma, come una tradizione di alcuni quartieri, nel duecento era il modo normale di fare i ravioli. Il primo che ha tolto la crosta di pasta è passato per un raffinato inventore che aveva scoperto qualcosa di nuovo. Quindi in realtà il cibo, appunto, potrei farne tanti altri esempi, di come il cibo ha attraversato la cultura medievale, di come la gente di allora interessava, in parte come interessa a noi, in parte come una cosa necessaria e che non ce n'è sempre abbastanza. Noi oggi ci preoccupiamo del fatto che ci sia un miliardo di esseri umani che non mangia abbastanza. Nel Medioevo tutti gli anni verso questa data si cominciava a chiedersi, ma dappertutto, ma quest'anno il raccolto basterà per tutti o non basterà? Tutti gli anni, quando il grano comincia a venire fuori, guardi il cielo, grandinerà di nuovo oppure no? E tutti dovevano preoccuparsene. Se ne preoccupava il contadino perché lui davvero, se il raccolto fosse andato male, non avrebbe saputo come dar da mangiare ai suoi figli, ma se ne preoccupava anche l'imperatore o il papa, perché se i raccolti vanno troppo male e la gente non sta bene, per le autorità è un problema, le autorità devono farsi carico di questo naturalmente. E poi ci si interessava del cibo, appunto, come uno status symbol, come uno dei grandi piaceri della vita. E poi ci si interessava del cibo come una cosa da capire da un punto di vista intellettuale e medico. I medici del Medioevo che pure avevano una scienza fondata su principi che noi sappiamo essere poco consistenti e quindi di per sé è una scienza che non aiutava tanto a guarire davvero i malati, però avevano una concezione del corpo umano come un tutto che va studiato nel suo insieme, di cui bisogna capire i funzionamenti, non studiando le singole parti. Ecco, e un medico medievale era perfettamente in grado di dire tu non mangi bene, tu dovresti... poi magari i consigli che dava erano basati su principi scientificamente sbagliati, ma questa attenzione c'era. È talmente presente dappertutto nel mondo medievale che io studio il cibo e la preoccupazione per il cibo che la ritrovo adesso che sto studiando il personaggio del Medioevo che forse sembrerebbe il meno adatto per l'argomento, San Francesco. Sapete che fra pochi anni sarà l'anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. San Francesco è uno che per principio si imponeva le peggiori rinunce e quindi digiuni spaventosi, ma era anche un uomo contraddittorio e una caratteristica degli autori del Medioevo è che non nascondono le contraddizioni degli esseri umani. Non è un'epoca ipocrita il Medioevo, anzi. E allora quelli che ci hanno raccontato di San Francesco sono in grado di dirci contemporaneamente, certo, le privazioni che si imponeva. Poi però c'era quella volta, c'era quella volta che era malato e che lui che era prima di convertirsi era uno di quelli che invece sperimentavano le raffinatezze, era uno di quelli che avendo tanti soldi e anche tanta voglia di spenderli, pagava il banchetto per tutti. Ogni tanto tornava fuori quel vecchio gaudente che era stato Francesco da giovane e allora c'è quella volta che è malato, gli viene da dire, certo che però che voglia che avrei di mangiare un piatto di gamberi e naturalmente Dio lo ascolta. Cinque minuti dopo bussano alla porta, c'è uno, ha portato un paniere di gamberi per San Francesco e San Francesco li mangia a quel punto e c'è quella volta, noi qui che appunto con Carlin Petrini ci siamo abituati a riscoprire le vecchie e le antiche tradizioni, le cose quasi scomparse, i mostaccioli, ecco, quel tipo di biscotti, di dolci, di tante città dell'Italia centrale. Francesco sul letto di morte si ricorda l'improvviso di quella signora di Roma che l'aveva ospitato tanti anni fa e diceva certo che se venisse qua Madonna Jacopa a farmi assaggiare ancora una volta i suoi mostaccioli, naturalmente Madonna Jacopa per ispirazione divina è partita da casa una settimana prima e cinque minuti dopo bussa alla porta con i mostaccioli. Dunque il cibo dappertutto, certo, quando io ero studente da noi lo sapeva solo Massimo Montanari, poi lo stiamo imparando in tanti, io di recente mi sono reso conto che questa intuizione l'avevano avuta ancora prima anche i grandi storici che all'inizio del Novecento hanno trasformato il nostro mestiere. Penso quei grandi storici francesi come Marc Bloch che hanno insegnato agli storici che la storia appunto è la storia di tutto, anche della vita quotidiana, della mentalità, dei modi di ragionare, di tutto. C'è una lettera di Marc Bloch, siamo negli anni 30, lui scrive al suo collega e socio Lucien Fevre, altro grande storico, Marc Bloch dice, è pieno di entusiasmo, dice a Fevre ho scoperto un argomento nuovo, mi sto occupando di questa cosa, sono sicuro che non ci avete mai pensato, avete mai pensato al problema della marmellata? E' un grande storico che sta parlando a un altro grande storico, scrivono grandi libri sulla società feudale, sull'economia, ecco il problema della marmellata, perché dice Marc Bloch oggi non sarebbe più attuale perché non abbiamo più le nonne che fanno la marmellata, ma negli anni 30 tutti pensavano certo la marmellata della nonna, cosa c'è di più tradizionale, cosa c'è di più ovvio nelle famiglie francesi, da sempre si fa la marmellata, dice Bloch, da sempre, un momento, da quando lo zucchero costa poco, lo zucchero c'è sempre stato ma era carissimo, nel Medioevo era una spezia, poi nel 600, nel 700 arrivava dai Caraibi, era sempre molto caro, le nonne non facevano la marmellata, poi qualcuno ha inventato la barbabietola e da quando lo zucchero lo facciamo qui con la barbabietola da allora la nonna può fare la marmellata, pertanto per far vedere come i meccanismi mondiali dell'economia potevano collegarsi con le abitudini domestiche dell'alimentazione domestica, no? E allora certo, certamente oggi per chi fa il mio mestiere è ovvio che l'alimentazione è il problema non solo di come la gente mangia e beve, ma di cosa pensa la gente del cibo, è un problema cruciale e ci sono momenti che probabilmente dovrebbero passare alla storia come momenti epocali anche se sconosciuti, mi viene in mente l'impressione che ho avuto un po' di tempo fa quando mi è capitato in mano un libro dell'Ottocento scritto da un capitano di marina americano che è uno dei primi americani che sono arrivati in Giappone dopo che il Giappone è stato costretto ad aprire i suoi porti, sapete che il Giappone per tre secoli si era isolato dal mondo e poi nel 1854 una squadra navale americana arriva in Giappone e obbliga l'impero del Giappone ad aprirsi al commercio internazionale. E a me è capitato fra le mani un libro scritto da un autore, da un capitano di marina americano arrivato subito dopo, stato ospite delle autorità giapponesi sul posto e racconta la sua esperienza. Al di là che mi verrebbe voglia di divagare perché questo racconto di cos'era il Giappone a metà dell'Ottocento, un paese dove tutti i giapponesi hanno due abiti, uno da inverno e uno da estate ed è il governo ogni anno che decide la data in cui ogni giapponese passa dagli abiti estivi invernali e viceversa. Ma a parte questo che non c'entra e mi scuserete, il capitano dice anche mi hanno invitato a pranzo, mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato da mangiare il pesce crudo e si sente lo sgomento con cui prova a comunicare ai suoi lettori occidentali questa idea di aver mangiato il pesce crudo. Oggi il pesce crudo abbiamo imparato tutti quanti, no? O quasi, insomma, comunque, io credo che quel momento in cui il primo occidentale ha assaggiato il pesce crudo in Giappone, ha assaggiato il sashimi, potrebbe essere una delle grandi date della storia della globalizzazione, della globalizzazione umana. Dopodiché appunto, oggi noi potremmo anche avere l'impressione di vivere in un paese che, abbiamo giustamente ricordato i problemi della cultura alimentare di oggi, ci tornerò adesso concludendo, però sotto altri aspetti potremmo anche avere l'impressione di aver fatto grandi passi avanti, per esempio quella tendenza che è, io credo, di per sé innata nell'essere umano, cioè a non voler mangiare il cibo degli altri, voler mangiare il proprio, che è tuttora la tendenza spontanea dei bambini, no? Come ben sappiamo tutti, ecco, al bambino non viene naturale assaggiare una cosa strana che non ha mai visto e questa è stata tendenza dell'umanità per molto molto tempo, oggi invece tutti quanti andiamo al ristorante cinese e io no perché le bacchette non ho mai imparato a usarle, ma la maggior parte, specialmente dei giovani che vedo, mangiano tranquillamente con le bacchette. Altro poi è sapere se abbiamo interiorizzato che le bacchette vogliono dire che solo dei barbari selvaggi e incivili mettono in tavola degli strumenti taglienti, perché a tavola si va per l'incontro conviviale e solo i barbari pelosi dell'Occidente possono fare una cosa così rozza come mettere sulla tavola un oggetto che taglia, quello vogliono dire le bacchette, lo sapete? Però in ogni caso appunto oggi noi siamo disposti, sperimentiamo di tutto, assaggiamo di tutto, non può più succedere come successe agli ufficiali dell'esercito di Wellington al tempo delle guerre napoleoniche, l'esercito inglese al tempo delle guerre napoleoniche combatte per anni in Spagna e ci sono le lettere degli ufficiali inglesi che all'inizio dell'Ottocento raccontano cosa è la Spagna. Ora naturalmente è un paese poverissimo, arretrato, cattolico, ma la cosa più drammatica è il cibo, il cibo è immangiabile, friggono tutto nell'olio d'oliva e questa cosa per questi gentiluomini inglesi all'inizio dell'Ottocento suscita da una repulsione, un disgusto. Ecco noi oggi queste cose le abbiamo superate. Al tempo stesso noi oggi sappiamo di aver bisogno di un'educazione alimentare perché appunto c'è una tale pressione di un mercato che propone cibo scadente. Potremmo pensare che invece in passato di questa educazione non ci fosse quel gran bisogno che tradizionalmente le culture umane abituassero la gente a mangiare bene. Non è necessariamente così. Io direi che anzi sono tanti gli esempi di come la pulsione a mangiare male, se solo si può, sia anche quella parte dell'animo umano. Non voglio fare l'esempio di Carlo Magno che è fin troppo ovvio, però Carlo Magno indubbiamente avendo mangiato quasi soltanto arrosti di selvaggina per tutta la vita, alla fine se ne è trovato male e anche allora c'erano medici che gli dicevano che non gli faceva bene mangiare arrosto tutti i giorni. Essendo medici dell'ottavo nono secolo non è che proponessero il brodetto di verdure, gli proponevano di mangiare bollita la carne anziché arrosto, ma lui non voleva perché era un tale status symbol mangiare la carne arrosto allo spiedo che magari avevi cacciato tu stesso. Però non c'è bisogno appunto di tornare, di andare a Carlo Magno anche mille anni dopo. Se voi guardate nei romanzi dell'ottocento o nel ricettario dell'Artusi come mangiava la nostra classe dirigente, la nostra buona borghesia alla fine dell'ottocento soprattutto quanto mangiavano, quanto mangiavano e quanto bevevano, quantità che sono inconcepibili per noi oggi. Io vi faccio un esempio di menù estivo dal libro dell'Artusi, un menù estivo per il mese di agosto, si intende assaggiavano un po' dell'uno un po' dell'altro per carità, comunque menù estivo per il mese di agosto, taglierini in brodo, prosciutto e melone, lesso di vitella con fagiolini, volovan ripieni di rigaglie, cotolette di vitella con prosciutto, tacchino arrosto con insalata, bavarese e frutta di stagione. Questo è il modo in cui una normale, non è un menù per principi, una normale signora dell'Italia di fine ottocento che invitava un po' di amici, certo non è il pranzetto quotidiano ma ho invitato un po' di amici, in tavola faccio arrivare tutto questo. Quindi appunto forse l'educazione alimentare non è soltanto una necessità di oggi, però certo con gli enormi profitti del fast food e dell'alimentazione del junk food, certo oggi ce n'è un bisogno particolare e allora si chiede alla scuola di introdurre l'educazione alimentare. Io credo che questa sia una cosa su cui ha molto senso ragionare e questa è l'unica cosa su cui mi sento di avere un consiglio da dare, ma non tanto per raggiungere i ragazzi, quanto ancora prima, proprio per promuovere questa proposta. Quello che vorrei dire è questo, vabbè intanto lo sappiamo tutti, la scuola, tutti parliamo della scuola come se fosse un monolite, la scuola è una realtà enormemente variegata e diversificata e ognuno di noi la percepisce come può attraverso la sua esperienza. Ognuno di noi si ricorda quella che ha fatto, poi vede quella che fanno i figli. Io ne vedo un po' di più di tanti altri perché sono spesso invitato. Mi rendo conto che anche questa è una deformazione perché ci saranno tante scuole che non invitano professori o esperti dall'esterno a dibattere con gli studenti, a discutere con loro. Quelle scuole lì io non le conosco, io conosco quelle che mi invitano, però sono tante in tutto il paese e io devo dire che tutte le volte che sono entrato in una scuola o l'ho incontrata con le tecnologie diaboliche di oggi anche a distanza, tutte le volte io ho avuto una sensazione molto precisa che la scuola, almeno quelle scuole, sono uno dei pezzi più belli del nostro paese, sono uno dei luoghi più belli, non solo dei più importanti per principio ma davvero di fatto più belli, dove si realizzano delle relazioni umane, poi lo sappiamo certo il lavoro dell'insegnante è un lavoro di massa, è un lavoro di massa, mal pagato, faticoso e dunque c'è di tutto, ma nella mia esperienza nelle scuole tra gli insegnanti e i loro ragazzi tante volte si realizza qualcosa di miracoloso ed è l'ultima volta che quei ragazzi si trovano con persone che si sforzano di aprirgli la testa, di insegnargli a ragionare, di non pensare esclusivamente poi appunto al loro inserimento nella vita lavorativa e così via, è l'ultima volta. Allora io credo che sia, che la scuola possa senz'altro pensare di farsi carico anche di questa dimensione nel momento in cui si facesse quello che con la scuola italiana secondo me si fa troppo poco, cioè cominciare dicendogli voi siete un pezzo importantissimo del nostro paese, siete un pezzo importantissimo, sacro del nostro paese, fate un lavoro senza il quale il nostro paese non avrebbe un futuro, questa cosa è fondamentale e ve la riconosciamo e sappiamo che è riconosciuta troppo poco e siamo qui a chiedervi di fare ancora un sacrificio, di introdurre ancora qualcos'altro fra le cose che cercate di insegnare ai nostri ragazzi. Ecco io credo che questa premessa sarebbe fondamentale perché anche la scuola percepisse... Alla fine... Se lo prenda tutto l'applauso professore. No, 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 volevo dire che alla fine non ha risposto alla mia domanda esplicitamente, ma implicitamente ci ha dato una lezione di come un podcast che, voglio dire, oggi raggiunge più di 12 milioni di utenti, è un formato vincente se si sa raccontare e legare la tematica su più strade, no professore? Cioè è lì che si ha l'appiglio... Sì, io poi non so neanche far schioccare le dita purtroppo, è una cosa che ho sempre impianto. No, perché è importante secondo me, visto che abbiamo qui il professore, secondo me lo strumento del podcast, e parlando di nuove generazioni, è quello più pulito, parlando di buono pulito e giusto, a livello di comunicazione, perché arriva in modo diretto ai ragazzi ma lo fa in modo appunto maturo, vorrei dire, perché comunque fa lavorare anche l'immaginazione, no? Quindi cerca di coinvolgere il più possibile. Ma l'immaginazione è una cosa assolutamente fondamentale, del resto appunto auguri a chi dovrà insegnare l'educazione alimentare a scuola, bisognerà inventarsi il modo di farlo. Il consiglio però appunto a questo punto è lo stesso che io do a me stesso ogni volta che devo preparare una lezione di storia, perché poi un podcast mio non è nient'altro che quello, una lezione di storia, e bisogna riempirli di fatti, e bisogna riempirli di fatti perché i fatti sono gli esseri umani, la storia è fatta dagli esseri umani, è un catalogo di azioni compiute da esseri umani, e quando puoi dedicare un'intera lezione a un singolo fatto storico ti puoi permettere di far vedere questa cosa, di far vedere che stai parlando di esseri umani, di uomini, di donne, e non di date e di concetti astratti, ecco. In qualche modo l'insegnamento, questo lo sanno ovviamente anche gli insegnanti a scuola, salvo che a scuola è molto più difficile avere il tempo di approfondire, di arricchire di dettagli, di riempire, parlo ovviamente dell'insegnamento umanistico e poi quello scientifico per me è un grande mistero, è tutta un'altra cosa. Ecco, io credo che l'insegnamento dell'educazione alimentare avrà anche delle connotazioni scientifiche, ma credo che farà parte soprattutto degli insegnamenti umanistici, di quelli che ci aiutano a capire meglio chi siamo noi a questo mondo, ecco, e come dobbiamo fare per imparare a starci e quindi in questo senso il parallelo forse ci può essere. Grazie, grazie professore, grazie mille, grazie. Ci vediamo più tardi.